Ciao Nanine! Finalmente vi faccio un nuovo video! Allora, il video di stasera è dedicato ai saldi, ai saldi a metà prezzo, ma soprattutto a un articolo in particolare, la gonna. La gonna sia lunga che corta, che di forte tendenza, anche per questa stagione primavera-estate. Allora, prima di illustrarvi tutta questa carrellata di gonne meravigliose, vi ricordo che ogni volta che vi farò vedere un articolo diverso, vi dirò un codice. Un codice che serve sia per le nanine che si recono fisicamente in negozio, quindi per vedere l'assortimento taglio, che comunque ora vi dirò è il prezzo, ma sia soprattutto per le nanine che acquistano online, che ormai siete veramente sparse in tutta Italia. Quindi, nanavigliamento.com, lente di ingrandimento, inserite il codice che andrò a dirvi ogni volta che cambierò l'articolo e potete trovarlo direttamente sul sito, metterlo nel carrello e acquistarlo. Vi ricordo che la spedizione è sempre gratuita anche con i saldi e soprattutto anche col metà prezzo. E vi ricordo che, nonostante ci siano i saldi, potete acquistare comodamente in tre rate, sia sullo shop online che fisicamente in negozio. Ma non perdiamo altro tempo che qui devo illustrarvi un sacco di cose meravigliose. E partiamo da questa gonna meravigliosa che indosso, Verdi Militare di Fili Firenze, con questo fiocco meraviglioso in vita. Riassortita due volte, nanine, questa gonna perché è andata molto ma molto bene. Le taglie ancora disponibili sono 40, 42, 44, 46. Anziché 108 euro, nanine, 54 euro. Questa gonna fantastica, comodissima e praticissima. Allora, nanine, io l'ho abbinata a questa casacca sbracciata di Diana Gallesi, con questa fantasia delicatissima, fondo crema, con questi fiori delicatissimi, meravigliosa. Ultima taglia rimasta di questa casacca che indosso è una 42, anziché 139 euro, nanine, 69,50 euro. Altrimenti, perché amante della camicia, quindi non solo da mettere nella gonna, ma anche lasciata fuori perché con un pantalone, ultima taglia rimasta è una 46, sempre di Diana Gallesi, anziché 139 euro, nanine, 69,50 euro. Per la ricerca sul sito 00175. Andiamo avanti, nanine, con quest'altra gonna meravigliosa di Soalur, tutta in pizzo, color turchese, taglia rimaste un XS e una M. La gonna è foderata, ovviamente, anzi, è foderata, ma in realtà la fodera sotto è un'altra gonna, quindi potete portarla in città con il suo sottogonna oppure al mare senza il sottogonna e con questo vedo e non vedo, questa trasparenza che al mare ci può stare. Allora, nanine, quindi anziché 149 euro, 74,50 euro. Per la ricerca sul sito 00676. Abbinata, ovviamente, potete abbinarla a una camicina bianca, a un top bianco, perché lei, essendo già molto lavorata, molto particolare, va messa con una cosa molto molto semplice. Andiamo avanti con un'altra ampera di rosa golla di Danny Rose che richiama questa fantasia anni 70. Sempre il nostro elastico in vita, che è molto molto comodo, taglia rimaste una 44 e una 42, quindi 42 e 44, scusate, ve l'ho detto al contrario. Abbinata a questo top color caramello, collo ad anello, taglia rimaste una S e una M di rinascimento, anziché 50 euro, nanine 25 euro. Allora, la gonda, per la ricerca sul sito, digitate l'articolo 00816 e per il top di rinascimento, in realtà questo non è caricato sul sito, comunque potete richiedermelo direttamente sul nostro numero WhatsApp, se volete fare l'abbinamento. Ovviamente questo per le nanine che non si possono recare in negozio. Allora, andiamo avanti e vedo un'altra gonna spettacolare di No Secrets, tutta in tulle, guardate che prendo la taglia più piccola, tutta in tulle, nanine, in micro tulle, tutta plissettata con questa fascia in vita meravigliosa che crea una sorta di cinturone. il tulle è in micro qua, è meravigliosa, nanine, ovviamente sempre foderata, le taglie rimaste sono 1,42 e 1,44, per la ricerca sul sito, 00016 e il prezzo, anziché 135 euro nanine, 67,50 euro. Io ho pensato di abbinarla alla t-shirt di rinascimento, con le scritte oro, con questo pulmino carinissimo, ovviamente messa dentro nella gonna, guardate che meraviglia, e questa t-shirt, anziché 50 euro, la metà 25, ultima taglia rimasta, è una large e il codice per la ricerca sullo shop online è lo 00228. Guardate che carino, nell'insieme. Poi passiamo a una gonna fantastica, una gonna meravigliosa di corti di Gonzaga che non si smettisce mai per l'originalità e la particolarità dei suoi articoli. Allora, questa gonna ha un effetto tridimensionale, un disegno effetto tridimensionale, perché la parte sotto, Nanine, è stampata, è un raso stampato con questi fiori meravigliosi sul lilla e la parte in tulle, quindi la parte superiore della gonna, è sempre stampata con lo stesso fiore ma più in piccolo e quindi fa questo gioco ottico tridimensionale che è più unico che è raro. Allora, sempre il nostro elastichino in vita, le taglie rimaste, Nanine, di questa gonna fantastica e unica, una 42 e una 46. Anziché Nanine 179 euro, andiamo a 89,50 euro. Meravigliosa! Ovviamente, essendo la gonna già molto particolare, io ho pensato di abbinarla a questo top con collo ad anello bianco, sempre di corte di Gonzaga che riprende il fondo della golla. Le taglie rimaste di questo top, Nanine, sono una 44 e una 46 e una 46. Anziché 79 euro, Nanine, 39,50 euro. Il codice per la ricerca sul sito è 00090. Se avete una cerimonia o comunque volete uscire alla sera ad essere carine senza essere esagerate, questo è un completo spettacolare. Allora, Nanine, andiamo avanti e adesso vi mostro una gonna di Blue Joint. Questa gonna ha ruota molto ampia fatta a teli. Ogni telo ha una fantasia diversa. È tutto fondo blu ma vedete che ogni telo è praticamente diverso uno dall'altro. Può ha fiori, righe, un po' di scozzese. È una gonna veramente particolarissima anche questa. Taglie rimaste una M e una L ha l'elastico in vita quindi è molto versatile anziché 105 euro una 1052 euro e 50 per la ricerca sul sito 00692 è l'articolo. Io ho pensato per questa gonna di abbinarla a questa camicina corta con l'elastico in vita che ovviamente non vi fa vedere l'ombelico perché la gonna ha già vita alta e quindi la camicina rimane appoggiata alla vita sempre di blue joint guardate che carina questa è un'unica taglia ed è una media esatto è una M anziché 49 euro una linee 24,50 euro la camicina non è caricata sul sito ma se la volete e volete richiedermela scrivetemi su whatsapp e o ve la spedisco oppure ve la metto da parte per le nanine che possano venire a ritirare qui in negozio allora nanine poi non vi ho detto che questa gonna che indosso è rimasto un ultimo pezzo identico anche in blu ultima taglia è una 40 anziché 108 euro proprio esattamente come quella verde militare che ho su pagate ora con 50% di sconto 54 euro per le nanine che acquistano online ricerca sul sito col codice 00216 andiamo avanti nanine e vi illustro anche questa ultima gonna meravigliosa guardate che spettacolo con questi ricami applicati gonna ruota foderata con zip laterale per la ricerca sul sito 00695 ultima taglia rimasta è una small anziché 149 euro nanine 74 euro 50 anche questa gonna è veramente più unica che rara addirittura ha questi inserti in oro non so se si riescono a vedere che la rende veramente particolarissima allora io ho pensato dal binario visto che la gonna comunque è a vita alta questo top in macramé con inserti in fizzio macramé di demi rose che si sposa divinamente con questa gonna vedete che è un divinamento meraviglioso il top di demi rose taglia rimasto sono una S e una M il codice per la ricerca sul sito è lo 00742 anziché 95 euro e 90 quindi andiamo praticamente arrotondando 96 euro la metà ananine 48 euro il top guardate che completo fantastico viva le golde viva le golde perché sono molto pratiche sono molto pratiche e molto fresche in estate e sono veramente una mano dal cielo allora adesso passiamo a una gonna di Diana Gallesi questa gonna dalla fantasia tropicale con questo verde che ritroveremo anche l'anno prossimo questo verde verde foresta la gonna è tutta aperta davanti con bottoni e le taschine ananine gonna di Diana Gallesi 100% cotone taglia rimaste una 42 e una 44 per la ricerca sul sito nanine è lo 00871 l'articolo anziché 109 euro 80 nanine arrotondando 55 euro ultima t-shirt è rimasta dello stesso identico colore nanine guardate che completo fantastico con la manica a un po' sbuffetto e la t-shirt è 100% cotone sempre di Diana Gallesi ultima taglia è una 46 anziché 59 euro e 80 nanine andiamo a 30 euro sempre facendo un discorso di arrotondamento perché sennò ve lo dovrei dire con tutti i centesimi allora per la ricerca sul sito la t-shirt appunto è la 00160 ultima taglia 46 ve l'avevo detto voglio solo farvi vedere la particolarità della manichina guardate che carina 100% cotone nanine tutto il fiber natural allora passiamo a quest'altra gonna di Danny Rose in cotone guardate che spettacolo provenzale con questi fiorellini fiori di campo sono molto alleghe molto molto fresche anche allora nanine è sempre il nostro elastichino in vita questa finta pulisse in vita che in realtà non la potevo stringere ma è solo un cordino così decorativo la gonna nanine di Danny Rose ultime taglie rimaste una 42 e una 46 anziché 119,90 60 euro nanine per la ricerca sul sito è lo 00746 il suo codice ho pensato di abbinarla a questo top color albicocca esattamente come i fiorellini provenzali che troviamo all'interno della gonna è vero che il top ha il pizzo sul fondo ma potete comunque inserirla anche all'interno della gonna quindi può essere utilizzata sia all'interno della gonna che anche comunque su un pantalone stretch il top con questi inserti in pizzo di Diana Gallesi le taglie rimaste sono una 42 e una 46 anziché 139 euro nanine 69,50 per la ricerca sul sito del top 00171 ripeto mettendola dentro nella gonna inserendo nella gonna guardate che colore che completo meraviglioso allora andiamo avanti nanine adesso passiamo a delle gonnelline un pochino più sportive allora con a tubino un bel tubino lungo con un bello spacco importante davanti di jeans di rinascimento vedete che lo spacco è in sbieco e trasversale taglie rimaste una eme e una large nanine queste taglie sono abbondanti perché è una bella emona con le taschine come vi ho detto prima la gonna è di rinascimento anziché 78 euro 39 euro per la ricerca sul sito 00366 allora ho pensato di abbinarla a questo top fantastico di Danny Rose guardate che margheritone con il pistillo azzurro jeans proprio da abbinare al nostro gonnellone il top è riassortito anche lui di Danny Rose XS S M e L scollo quadrato con le spalline imbottite quindi le taglie ve le ho dette anziché 64 euro 90 nanine 32,50 e il suo nuovo prezzo al 50% codice per la ricerca sul sito 00823 guardate che carino che è anche questo un altro genere un po' più sportino un po' più casual ma molto divertente sempre con lo stesso topettino potete abbinare l'altra gonnellina fantastica di Dujoin perfetto slavato con l'arricciatura in vita con le tre valse leggerissima perché è 100% cotone la gonna 57 euro nanine quindi 28,50 euro per la ricerca sul sito 00784 le taglie rimaste nanine vi dico le taglie che qua sono un pochetto nascoste ma qui diciamo che avendo l'elastico in vita gioca molto il discorso della taglia comunque dovrebbero esserci appunto una M e una L quindi M e large con il nostro topettino di Danny Rose che vi ho illustrato prima allora andiamo avanti nanine con un'altra con un'altra fantastica di No Secrets allora stampa di T&I questa stampa che andrà tantissimo anche l'anno prossimo con queste sfumature nel blu sempre il nostro elastichino in vita nanine taglie rimaste 1,44 e 1,46 la gonna è morbidissima nanine allora anziché 120 euro nanine 60 euro per la ricerca sul sito la trovate con il codice 00267 abbinata se volete a questa maglia spettacolare di Danny Rose che si distingue sempre per l'originalità allora maglia con noblò sulla spalla e arricciatura sulla manica 100% cotone scollo leggermente a barchetta taglie rimaste nanine una S e una M anziché 64 euro e 90 32 euro e 50 con lo sconto nanine guardate com'è particolare questa maglia per la ricerca sul sito la trovate con il codice 00625 inserita dentro nella nostra gonna con la spalla di fuori nanine è un completo meraviglioso io lo trovo bellissimo è molto originale ora passiamo una gonna un po' più chic questa gonna di corte del Gonzaga con l'inserto in macramè nera sempre la nostra gonnellona lunga le taglie rimaste nanine una 42 e una 46 questa gonna in cotone spettacolare per ricerca sul sito la trovate con il codice 00162 e la gonna anziché 139 euro nanine 69 euro e 50 io ho pensato di abbinare sempre visto che la gonna è molto chicchina sempre la nostra casacchina di corte di Gonzaga vedete rigata con questo filo argentato molto molto raffinata e questi volanti sulle spalle le taglie rimaste di questa casacchina che ovviamente potete inserire nel gonnellone ma potete portarla anche fuori con un pantalone taglie rimaste abbiamo una 42 e una 46 nanine per la ricerca sul sito la nostra casacchina la trovate con il codice 00058 anziché 95 euro nanine 47 euro e 50 guardate che meraviglia allora andiamo avanti ora passiamo alle gonne un pochino più corte per quelle danine che vogliono mostrare le gambe allora gonnellina a tubino camouflage di Danny Rose taglio jeans con la nostra cinturetta in vita taglie rimaste taglie rimaste scusate una 40 e una 46 la gonnellina di Danny Rose la trovate sul sito sempre che io riesca a trovare il codice nanine perché qui nascondono tutto anziché 96 euro 90 quindi 97 euro la metà è 48 euro 50 codice per ricerca sul sito 00738 vedete qui il loghettino sulla taschina di Danny Rose con il brillantino sulla nostra taschina abbinata volendo a questa t-shirt molto particolare di mitica guardate con questa ve la faccio vedere bene nanine perché merita questa t-shirt che detto così sembra molto semplicistica in realtà è una magliettina veramente molto molto carina ha il pizzo inserito nella letta della manica e l'oblò sulla schiena anziché 99 euro 49 euro 50 taglie rimaste una S e una M ricerca sul sito è lo 00686 inserita sempre dentro la nostra agonialina guardate che sciccheria allora passiamo a un'altra gondellina corta che arriva sopra il ginocchio di demi rose gonna di jeans con cerniera davanti tasche dietro con spacchetto ultimissima taglia rimasta è una 28 anziché 89 euro 90 nanine col 50% andiamo a 45 euro per la ricerca sul sito 00339 io ho pensato di abbinarla alla t-shirt di rinascimento con questa donnina che va in bicicletta con la gondellina tutta glitterata viola che inserita sempre nella nostra gondellina di jeans diventa una magliettina un completo carinissimo le taglie della t-shirt nanine sono SM che è una taglia e ML che è l'altra taglia anziché 33 euro nanine 16 euro e 50 la t-shirt per la ricerca sul sito 00921 è il nostro articolo altro pompettino meraviglioso gonna scozzese bianca e nera scacchi di Danny Rose con la balzetta e leggermente arricciata su un lato ultimissima taglia rimasta è una 44 anziché 90 euro e 90 45 euro al 50% di sconto per la ricerca sul sito 00359 è il nostro codice e volendo una linee avete la maglia monospalla abbinata identica che inserita nella gonna sembra quasi un vestitino in realtà poi potete spezzarla questa metterla su un pantalone dentro un jeans con la gonna nera di Porte de Gonzaga che vi ho fatto vedere prima quindi inserita anche qui in quest'altra gonna potete aggiornarla come volete e la nostra casacchina dà la particolarità di avere appunto una spalla ascesa e una manica quindi questa va praticamente appoggiata a una spalla e dall'altra parte avete proprio una manica con l'aletta taglie rimaste un XS e una S anziché 89,90 euro andiamo a 44,95 euro quindi 45 euro praticamente per la ricerca sul sito Nanine il codice è 00433 meravigliosa sempre con la nostra casacchina a scacchi potete abbinarla a quest'altra fantastica gonna che io la trovo un mini capolavoro guardate che spettacolo Nanine questa gonnellina con tutte le rouge in rilievo taglie rimaste gonna di Danny rosa ovviamente perché solo questo brand può fare queste cose così fantastiche così originali e molto giovanili molto sprint taglie 40 42 e 44 anziché 90 euro e 90 Nanine andiamo praticamente a 50 euro per la ricerca sul sito 00551 bellissima appunto da abbinare anche alla nostra casacchina a scacchi bianca e nera per oggi è tutto Nanine vi ho illustrato questo mondo delle gonne ed eventuali abbinamenti vi aspettiamo qui da Nanà per acquistare questi capi meravigliosi per le Nanine online buon shopping online ciao Nanine e al prossimo video